Sono lì, con 1.34, Cristian! ...in partita molto in voi e stanno per favorire l'ex giulatore di Presenza, ma con la grossa per scontacci. Stacca Barocchi, a fondo di questa via, in aria. ...percosa ha notato la scatazione morta, al filo finuto, la rete è segnata da Romani. ...el mio quest'atelier ha segnato con il mio 11, poi il grande è un mercato esibito, dalla Conocola, ma non si è mai giusto accordo. il giro 3 il giro 8 per la Ligua e Scavia che ha il suo numero di mezzo c'è Arvigio che prima controlla il pallone con l'isca di perna non è spartato e c'è un calcio di Pino Cato Correlli che intanto quando si vanno giocati all'ottavo minuto del primo tempo ecco per Aldotto il giro a Morse il giro a Morse il giro a Morse ma che sono passati 9 minuti il giro 14 per Antocco immaginavo di ritrovarsi il giro a Morse il giro a Morse la vita in Italia che è fuori costa Cavalozzi il giro a Cernigoli il giro a Cernigoli il giro a Morse il giro a Morse il giro a Morse a perdere il pallone una serie di errori su abitanti su Cernigoli e fino a un certo giro Zambattaro costruzione avvolgente di padrone di capo da Zambattaro e la palla per la terciana di distanza la parte come avete visto sul pomino il cross di Nobardo in aria la palla ripresi tutti i cibi ma anzi Stavittaro il giro a Cernigoli vinto il cross qua in questo momento la palla scontata con Valle il giro a Cernigoli ha segnato per noi con il numero 6 Ernesto Salita Ernesto Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.